Salve a tutti, breve video per fare giusto due annunci ma abbastanza importanti. Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio ci sarà l'ARF, il Festival del Fumetto a Roma. E io sarò ospite, mi potrete beccare in giro tutti e tre i giorni, e domenica 14, dalle 11.45 alle 12.45, parteciperò al panel I Fumetti Spiegati Bene, insieme a Luca DJ, Riccardo Corbò e Alusiel, in cui parleremo a grandi linee dell'evoluzione dell'informazione e della divulgazione fumettistica sul web. E secondo annuncio il 26, 27 e 28 maggio ci sarà la prima edizione del Grigna Comics, il Festival del Fumetto della Valsassina. Saranno tre giorni di laboratori, workshop, eventi, tutto distribuito sul territorio e tutto a tema fumetto. Anche lì sarò uno degli ospiti, oltre a Emanuele Tenderini, Linda Cavallini, Stefano Togni e Claudio Villa, che avrò anche il piacere e l'onore di intervistare proprio lì per il Festival. E ovviamente anche tanti altri ospiti. Vi lascio ovviamente in descrizione tutti i link per saperne di più di questi eventi, spero di vedere molti di voi e spero che partecipiate. Il fumetto è una passione bellissima e sono proprio eventi come questi che ci danno modo di condividerla. Che dire di più? Ci vediamo in fiera e qui sul canale con i prossimi video. Ciao!